A un certo punto hai parlato di eroi che abitano qua, senza farne troppo carico a Roberto Sartor della situazione Chiocciola, la casa del nomade, però io quando penso alla sua scelta e alla scelta degli altri ragazzi della situazione Chiocciola, o quantomeno penso alla sua scelta otto anni fa, insomma qualche anno fa, ho veramente in mente questo. E poi ho veramente in mente un'esperienza che da otto anni, credo nove, forse te la sua Roberto dirà, ha avuto veramente la capacità di stare nei luoghi, di conoscere i luoghi, di raccontare i luoghi, di fare esperienze, nel loro caso educative, quindi anche con i più giovani, legate a quei luoghi, ma anche di stare nel mondo, ma anche di stare lontano da sé, ma anche di vedere esperienze diverse, di portarle nella realtà e di andare a visitarne altre. L'abbiamo presentato come un gruppo di giovani che hanno fatto da calamita, e adesso chiederei a Roberto di raccontarci il perché e il per come, diciamo così, di questa loro esperienza di questi anni. Grazie, grazie Andrea, buonasera a tutti e grazie anche per questa introduzione. Vi racconto una esperienza, una piccola esperienza che appunto spero possa essere utile all'interno di questo percorso. Io vi parlo da Pennabilli, che è un piccolo borgo dell'Emilia Romagna, nell'area interna della Val Marecchia, al confine con Toscana e Marche, dove appunto da circa 7-8 anni, forse 9, ho il piacere di condividere assieme ad un gruppo di persone un progetto che nasce proprio dalla volontà di provare a scommettere in questo territorio. La storia comincia alcuni anni fa, quando un piccolissimo gruppo di persone sceglie questo luogo anche attratto dalla sua bellezza, anche da quel tessuto culturale che c'è e che è stato sicuramente anche un attrattore, e che intorno a questa esperienza ha voluto appunto provare a lavorare sulla qualità della propria vita principalmente. Come? La scelta di venire qui in qualche modo doveva coincidere anche con la soddisfazione di un bisogno. Il primo bisogno era banalmente un bisogno lavorativo, che per me non significa solo reddito, come dire, ma significa proprio riuscire a trovare attraverso la nostra attività quotidiana una risposta a quelle che sono appunto anche le nostre aspirazioni, aspirazioni di persone giovani che hanno studiato, viaggiato, che hanno fatto esperienze lavorative in Italia e all'estero e che nella scelta appunto di vivere in questo contesto sentono appunto anche il bisogno di crescere, di crescere e di crescere assieme. E per cui la nostra attitudine e il nostro interesse nei confronti dell'educazione, della pedagogia, ma anche in generale confronti dei luoghi e il nostro fascino rispetto alla complessità dei luoghi ci ha portato nel tempo appunto a sviluppare dei progetti che coinvolgono principalmente bambini e ragazzi, ma anche gli adulti, a partire dall'idea e dalla consapevolezza che questi luoghi possono essere uno strumento eccezionale per l'apprendimento. Per cui siamo proprio partiti dalle loro specificità, osservandole, provando a leggerle e se è vero che l'occhio vede quel che la mente conosce noi abbiamo proprio trovato in questi luoghi degli strumenti in cui provare a sviluppare delle attività che potessero portare ai bambini e ai ragazzi inizialmente a fare delle esperienze che potessero essere utili sia per conoscere ma soprattutto per conoscere se stessi e per provare appunto a sviluppare competenze sia personali ma anche di gruppo per cui ecco che i nostri boschi, i nostri torrenti, i nostri calanchi, i percorsi fuori sentiero sono diventati gli ambienti delle nostre attività e insieme a questi anche le persone, le comunità, i patrimoni culturali, materiali, materiali e anche tutto quel mondo un po' nascosto che non è visibile, che non è presente nelle guide ma che abbiamo cercato anche proprio spinti dal fascino nei confronti appunto anche di tutto ciò che non si vede e che in qualche modo dobbiamo cercare. Ed ecco, le esperienze sono state diverse in questi anni però oggi mi sento di riassumerle in due progettualità. La prima riguarda una relazione diretta tra noi bambini e ragazzi delle loro famiglie che riguardano sia ragazzi del nostro territorio ma anche bambini e ragazzi che provengono per esempio da Rimini, da Sant'Arcangelo le città più vicine e che accompagnandoli in questi luoghi abbiamo visto quanto questa cosa possa effettivamente essere utile alla loro crescita. Per cui così è un progetto di educazione in natura dove con i bambini lavoriamo appunto nella conoscenza, nell'osservazione, anche nell'acquisizione di un'idea che siamo parte di un sistema, no? Per cui di provare proprio a vedere i collegamenti tra le cose e soprattutto a fare esperienze, fare esperienze insieme dove ci mettiamo in gioco anche noi, noi stessi come educatori con le nostre curiosità ma anche con le nostre paure e cresciamo insieme a loro. L'altro progetto che mi sento un po' di sintetizzare è quello che invece riguarda la scuola, la scuola di Pennabilli proprio nella convinzione che anche il nostro ruolo di abitanti, di cittadini potesse essere utile per sostenere la scuola pubblica e per dare alla scuola delle opportunità di estendere i propri spazi di apprendimento. Per cui un supporto che va dalla progettazione, per cui anche nella ricerca di nuove risorse ma anche ovviamente nelle attività direttamente con i ragazzi ma anche di facilitazione, di aiuto agli insegnanti, agli operatori scolastici a capire come loro stessi anche senza il nostro supporto diretto possano piano piano sviluppare una metodologia che prende in considerazione il proprio intorno, il proprio territorio per vederne nuove risorse e per poterle condividere con i ragazzi. Questa è una cosa che non riguarda unicamente l'acquisizione di conoscenze ma riguarda anche l'idea di provare a lavorare con i ragazzi che vivono questo territorio affinché loro possono avere degli strumenti di lettura, avere degli strumenti di tenere sempre vivo un dialogo e una riflessione sui luoghi in cui vivono per poterne scoprire o comunque per fare esperienza dei potenziali ma anche di leggere le criticità, di riflettere. Non è l'idea che per forza li dobbiamo trattenere anzi che come abbiamo fatto noi che abbiano anche modo di conoscere, di vedere il mondo ma forti così della conoscenza e del proprio territorio affinché possano andare ad attingere nel mondo e magari in un futuro, magari non tutti, portare poi quelle loro esperienze anche qui. Roberto, perdonami, scusa se ti interrompo, voi siete partiti in due, tu e Irene e negli ultimi tempi invece eri tu che mi dicevi che sta diventando una comunità chi ruota intorno alle vostre attività, chi si è appassionato, chi vi ha conosciuto chi si è trasferito a Pernabilli in qualche modo ha ripopolato un po' anche cioè la vostra sta diventando una comunità all'interno della comunità anche con dei propri usi e costumi e poi con una propria vita professionale corregimi se sbaglio. Sì, sì, infatti no, no, assolutamente Andrea hai ragione perché appunto poi le opportunità si sono un po' espanse abbiamo anche ad un certo punto iniziato a dialogare con un territorio un po' più ampio che non era solo quello del paese ma per esempio quello del parco del parco del sasso Simone Simoncello dove noi viviamo per cui questo è stato anche un modo un po' per differenziare, no? Per ampliare lo spettro delle cose che facciamo per cui intorno a questa cosa piano piano hanno iniziato a raggiungerci altre persone chi magari per qualche piccolo periodo chi piano piano anche decidendo di vivere qui, no? Questa cosa ha fatto sì che sono giunte anche nuove competenze non solo appunto in ambito pedagogico, educativo ma anche per esempio in ambito urbanistico, geologico come anche nella comunicazione, nell'organizzazione, eccetera per cui piano piano anche l'identità di questa associazione appunto ha iniziato un po' ad allargarsi ed è proprio di questo periodo un po' anche una riflessione che stiamo facendo internamente perché riconosciamo piano piano in questo gruppo di persone che da due appunto sono diventate una quindicina circa un gruppo di persone che condividono di fatto degli strumenti anche in funzione professionale per cui anche nell'idea di far sì che ognuno possa anche appunto avere degli strumenti che sono banalmente anche il fatto che come dire ci confrontiamo o che mettiamo appunto in comune le nostre esperienze le nostre conoscenze per far sì che anche ognuno possa in qualche modo seguire la propria personale aspirazione il proprio personale percorso penso che anche un po' per osservare un po' quello che è successo io credo che la cosa bella appunto è che oggi in qualche modo siamo un po' una piccola comunità di persone giovani così che si incontrano e intorno a questa cosa ci osserviamo anche no? Proviamo a capire come il nostro percorso il nostro processo possa in parte anche per capirlo no? ma anche proprio per condividerlo anche con altre realtà e sicuramente ci sono alcuni punti che forse un po' caratterizzano la nostra esperienza cose di cui abbiamo già parlato questa sera per cui sicuramente questa come dire sempre volontà di comunque tenere aperte le porte verso un mondo più ampio e di connetterlo no? di connetterlo anche con il locale per cui di portare delle esperienze da fuori anche perché è un altro grande nostro bisogno quello di essere in qualche modo in contatto con il mondo ma di condividere questa cosa con la comunità locale anche con delle azioni molto informali e forse anche un'altra cosa che appunto mi viene da dire il nostro non è un modello è semplicemente un'esperienza basata appunto sulle specificità di un luogo ma anche sulle specificità delle persone no? e il processo è stato molto lento questa cosa che oggi in qualche modo a qualcuno di noi dà anche un lavoro però è cresciuta veramente molto lentamente anche forte del fatto che abbiamo scelto di entrare un po' in punta di piedi in questo territorio di condividere con la comunità quello che stavamo facendo di condividere le nostre opportunità appunto anche con la comunità locale per cui oggi come dire ci sentiamo forse più appunto dei facilitatori nel senso che soprattutto per chi si vuole avvicinare sia per qualche giorno o anche per fermarsi no? mettendo loro a disposizione innanzitutto un gruppo di persone però poi anche magari degli spazi o appunto delle esperienze una rete di contatti la conoscenza del territorio che si succusate è molto importante allora Grazie.